Ancora uno stop per la Puglia da Roma. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, una legge regionale su contratti dirigenziali a termine e consulenze. In pratica alla Regione Puglia si contesta la legge 10 del 2010 con la quale intende continuare ad avvalersi degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti di servizio stipulati per attuare i programmi comunitari. Una disposizione che contrasta con la legge statale che prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, come nel caso della Regione Puglia, i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno della Regione e i contratti a tempo determinato di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e assimilati, nonché i contratti di servizi con soggetti privati stipulati e prorogati dalla Regione, siano revocati di diritto. Uno stop che arriva dopo un altro braccio di ferro conclusosi qualche giorno fa fra Regione e Governo sul piano di rientro sanitario è finito con un'ulteriore proroga di due mesi, dal 15 ottobre al 15 dicembre per la sottoscrizione del piano. Per me conta la sostanza, la sostanza è che abbiamo messo in cantiere gli atti necessari e indispensabili, non gli atti superflui o controproducenti, affinché il Governo possa apporre la firma su quel piano di rientro che ci può consentire, sia pure superando difficoltà notevoli e affrontando situazioni dolorose, di poter andare incontro a un 2011 di rilancio del sistema sanitario pugliese e non di suo declino inarrestabile.